Eccoci a venerdì a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'ariete. Il lavoro vi impone qualche sacrificio non troppo gradito, ma nel contempo avrete la possibilità di consolidare la vostra posizione. Toro, le stelle propongono diverse opportunità da accogliere al volo. Sotto il profilo professionale la vostra intraprendenza farà faville e potrete affrontare le situazioni più impegnative senza fare una piega. Gemelli, il consiglio delle stelle sia per il lavoro che per il privato è quello di attendere gli eventi e di non correre troppo. Arriva tutto a tempo debito. In ambito professionale siate precisi e organizzati, molto chiari e eligi alle regole. Cancro, buoni transiti planetari lasciano prevedere una giornata molto costruttiva e vivace, ricca di sollecitazioni e novità e quindi congeniale a nuove storie d'amore o a contatti umani soddisfacenti. Leone, richiamandovi al dovere, le stelle rischiano di rovinarvi la giornata, ma la tranquillità professionale vale qualche piccolo sacrificio. Per rendere più piacevole il lavoro, cercate di operare in gruppo. L'unione fa la forza e poi allontana la noia. Vergine, in questa giornata vi dedicherete finalmente ai vostri hobby preferiti. Inizierete nuovi studi connessi alla spiritualità, svilupperete il talento per la musica o per l'arte. Bilancia, saprete sfoderare tutta la vostra abilità nell'esibirvi in velocissimi slalom attraverso le diverse situazioni che la vita propone a voi come a tutti gli altri, ma voi saprete essere più veloci di tutti. Scorpione, se avete intenzione di comunicare qualcosa di significativo alla persona che più vi piace, occhio all'alimentazione, rischiate di trovarvi appesantiti e impigriti ancora prima di arrivare alle feste di Natale. Sagittario, non nascondete la testa come fanno gli struzzi quando c'è da combattere per un vostro sacrosanto diritto, non potete e non dovete indugiare tanto meno delle gare. Con tutta semplicità fatevi avanti e chiedete quello che vi è dovuto. Capricorno, davvero un'ottima giornata. Cogliete le occasioni che il destino vi offre accettando senza indugi una proposta. I pianeti guidano i vostri passi rendendovi tranquilli ed efficienti nel lavoro. Acquario, eventuali contrasti in famiglia richiedono maggiore spirito di meditazione. Rischiate di mostrarvi troppo rigidi con gli altri e con voi stessi. Attenzione ai raggiri in campo professionale, lasciate perdere le proposte troppo allettanti. Pesci, la chiave del vostro successo risiede in un sano realismo nonché nelle ottime capacità manuali. Oggi non rimarrete a guardare, vi darete da fare. Giorno ideale per farvi valere sul lavoro, stabilire nuovi contatti e allargare la cerchia dei clienti. Grazie a tutti.